Con il freddo di questi ultimi giorni parlare di Operazione Russia casca a pennello, ma al di là dei giochi di parole il progetto su cui lavora la giunta regionale potrebbe avere risvolti positivi per il turismo calabrese. È facile pensare che turisti provenienti da paesi freddi possano riempire i famosi periodi di bassa stagione dove temperature comunque gradevoli e prezzi altamente concorrenziali andrebbero a rendere produttivi quei mesi ancora poco sfruttati. Il primo passo è incrementare i voli da E per Mosca e questo obiettivo sembra essere stato raggiunto. Dal prossimo 3 aprile fino al 18 ottobre, informato il presidente Scopelliti questa mattina in conferenza stampa a Catanzaro, sono stati già implementati 38 voli da Mosca di cui 25 destinati all'aeroporto di Reggio Calabria e 13 a quello di La Mezzia Terme. Inoltre in fase avanzata uno studio per orientare almeno altri 20 voli sull'aeroporto Sant'Anna di Crotone. Le stime parlano di 6.500 presenze col colbacco per una permanenza media tra i 7 e i 14 giorni con particolare attenzione al turismo termale e alla storia dei territori. La ricaduta in termini economici sarebbe di circa 12 milioni di euro, un mercato già conosciuto anche sull'alto di Reno Cosentino, quello del turismo russo, dove sono per lo più i privati con iniziative singole a spingere il fenomeno. Negli ultimi anni è stata registrata un'attività di vendita immobiliare che ha visto protagonisti proprio cittadini dell'ex Repubblica Socialista Sovietica e riuscire ad entrare nel circuito in maniera più organica potrebbe essere una carta da giocarsi per la ripresa economica del comprensorio. Turismo destagionalizzato nell'arco di 4-6 mesi evitando il caos infernale ma attenzione ad offrire una maggiore specializzazione in termini di qualità dell'offerta e di accoglienza e poi tutti pronti a masticare le basi della lingua.